In un mondo dove sentiamo parlare solo ed esclusivamente di valutazione di mercato, speculazione, investimento, acquistare orologi solo ed esclusivamente per queste motivazioni, ti fa un po' perdere quello che è l'interesse in questo mondo. Ho fatto tantissimi contenuti ultimamente dove tratto questo argomento perché, sapete, questo canale nasce per confrontarmi su tantissimi aspetti, tantissime idee che ho e vedo che sono pochissime le realtà che realmente sanno evolversi. Ci sono e c'è, secondo me, un brand capace realmente di cambiare, realmente di ascoltare il proprio pubblico, di appassionati, e questo brand è Oris. Quindi in questo video vi dico un po' la mia e vi spiego un po' quella che secondo me è una, se non la migliore realtà da prendere in considerazione se si è appassionato di orologi. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pasquale, questo è APSQ Watch, su un canale dove parliamo di orologi e dove affrontiamo tantissime tematiche inerenti al mondo dell'orologeria e se siete interessati a questo settore, se vi piacciono gli orologi e volete un attimino anche vedere oltre a quelle che sono le solite Maison, vi invito ad iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi contenuti che verranno pubblicati qui su PSQ Watches. Prima di iniziare ci tengo a ringraziare la gioielleria Russi di Pescara che mi ha dato l'opportunità di provare questi fantastici Oris Pointer Date, nello specifico mi ha dato l'opportunità di provare questi due Cervo Volante in colorazione verde e azzurro ma che vedremo tra pochissimo, grazie a loro ho provato anche Frederic Constant, hanno anche Maurice Lacroix, insomma hanno tantissimi brand, quindi se siete interessati vi lascio qui sotto in descrizione il loro link, così potete direttamente contattarli se siete interessati a tantissimi brand, a tantissimi orologi. Iniziamo parlando dei nuovi Oris Big Crown Pointer Date Cervo Volante, un'edizione limitata in una cassa da 38 mm, un altro passo in avanti di Oris verso un pubblico che è sempre di più alla ricerca di queste dimensioni compatte, tantissimi di noi sono alla ricerca appunto di orologi che abbiano un diametro più piccolo, che abbiano un diametro potremmo definire più versatile, più adatto a più situazioni appunto di vita quotidiana e ritengo che Oris sia uno dei pochissimi brand che ancora oggi riesce ad ascoltare così tanto il proprio pubblico nonostante la sua grossa notorietà che sta avendo specialmente in questi ultimi anni. Il ragionamento che vi ho fatto inizio video l'ho fatto perché mi è capitato proprio recentemente parlando con un mio amico che non è minimamente appassionato di orologi... ...di chiederti se conosci dei posti o qualcuno dove possa acquistare dei Rolex a prezzi di listino perché lui interesserebbe rivenderli. Se tu sai qualcosa o conosci qualcuno io poi glielo dico. E mi ha fatto capire questa cosa che effettivamente oramai tutti sanno che acquistando certi orologi a listino poi si possono rivendere a cifre più alte. La cosa però che mi fa riflettere è che gente che non conosce minimamente il mondo dell'orologeria e non conosce minimamente quelle che sono le dinamiche si appassiona a questo mondo, comunque si interessa più che appassionarsi, si interessa a questo mondo solo per questo. Cioè non riesce a vedere tutto quello che noi invece appassionati riusciamo a vedere quando parliamo di orologi. E quindi mi è proprio venuta in mente questa domanda. Ha detto ma com'è possibile che giovani appassionati, quindi persone che non sono tanto in questo settore, al di là dell'età, proprio persone che non sono tanto conoscitrici del mondo dell'orologeria, delle dinamiche, del mercato, che non conoscono quest'ambiente, si soffermino solo ed esclusivamente su questo aspetto e non riescono a vedere invece realtà interessanti, particolari, divertenti come Oris. Parlando poi insieme a qualcuno di voi su Instagram, se ancora non mi seguite, seguitemi, chiocciola psqwatches, è facilissimo trovarmi, parlando proprio con qualcuno di voi in privato, è venuta fuori un po' questa conversazione sul perché Oris sia una delle realtà più interessanti sul mercato, del mio pensiero. Insomma, la conclusione è che noi giovani appassionati, e ripeto, non parlo dell'età, ma proprio persone che sono all'interno di questo settore da un paio di anni, dobbiamo realmente prenderci cura di realtà come Oris, perché Oris è uno di quei brand che sta ascoltando molto bene il proprio pubblico, sta ascoltando tantissimo la community degli appassionati, e questo ci deve far capire che queste sono le realtà da supportare, sono le realtà in cui credere, in cui investire come appassionati, che non è investire il proprio denaro come imprenditori per guadagnarci qualcosa, ma investire poi magari ci guadagni anche qualcosa, e non è detto che non succeda. Ci sono anche poi delle edizioni in realtà limitate di Oris che hanno preso delle rivalutazioni interessanti, ma proprio intendo dire investire come appassionati in una realtà che crede in questo mondo, in questo settore, che ancora ci dà orologi freschi, belli, versatili, diversi, e che ti facciano in un certo senso davvero divertire, che è la cosa, secondo me, che più manca in questo settore, in questi ultimi anni. Questi nuovi cervo volante ritengo che siano davvero belli. Queste due colorazioni poi sono estremamente bilanciate. Per chi ha visto altri video e si è lamentato, o poi magari anche in privato con me, dell'indicatore della data che doveva essere a contrasto, vi dico che in realtà una volta che poi lo metti al polso non noti poi questa difficoltà nel leggere la data. Anzi, è molto piacevole che sia tono su tono, secondo me, proprio perché non rovina troppo l'armonia del quadrante, che ha un colore... In questo caso abbiamo due colorazioni molto, molto intense e molto particolari. L'edizione limitata con cervo volante deriva appunto da una collaborazione con questa azienda, che ha deciso di recuperare il pellame di cervo per creare poi oggetti di elevatissima qualità. Vi invito a guardare il sito di Oris, c'è scritto poi tutto quanto. E Oris ha poi ben pensato di aggiungere delle colorazioni molto particolari di quadrante, che potessero riprendere quello che è il concetto di natura, di bosco, appunto di neve. E ritrovo tutto questo in questi orologi. Questo video non vuole essere però un video troppo tecnico, specifico. Ripeto, le informazioni le potete trovare online, le dimensioni, quello che è il formato di questi orologi, il prezzo, è tutto online. Quello che volevo fare con questo video era trasmettere un messaggio, ovvero che noi, giovani appassionati, dobbiamo prenderci cura di Oris, perché è un brand che davvero ti insegna ad appassionarti al mondo dell'orologeria. E lo fa in un modo molto semplice, secondo me. Veramente è super banale, ma che appunto oramai non si vede più in giro. Vedo che stiamo perdendo completamente questo approccio a questo mondo. E Oris ti insegna, invece, specie con i pointer date, che sono una linea veramente versatile, una linea veramente anche particolare, però allo stesso tempo ti insegna a comprare quello che ti piace, a scegliere l'orologio perché ti piace sul polso, perché te lo vuoi godere. E non è più così con tantissimi altri brand. Ed è veramente un peccato, secondo me, che si sia perso tutto questo interesse nel progettare e realizzare orologi che siano belli e divertenti. Quindi non voleva essere un video troppo lungo. Ho poi provato anche i pointer date da 40 mm, in realtà li avevo già provati e mi erano piaciuti già tantissimo. E ritengo che anche il 40 mm sia molto versatile. Però il fatto che Oris abbia fatto un 38 mm mi ha fatto capire ancora di più di come questo brand si stia muovendo verso il pubblico di appassionati, facendo tante linee in dimensioni più compatte, producendo calibri di manifattura a prezzi molto interessanti. Insomma, vedo che questa realtà ci tiene ancora tanto al proprio pubblico e quindi volevo con questo video aprire questa piccola discussione qui sotto nei commenti. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate e ditemi se avete acquistato Oris, se pensate la stessa cosa, se vedete la stessa idea di freschezza, divertimento che vedo io quando penso ad Oris. E soprattutto se vedete questo aspetto molto importante del messaggio del compra quello che ti piace, goditi l'orologio. Insomma, questo senso di vera passione che questo brand riesce a trasmettere rispetto a tantissimi altri brand nella sua stessa fascia di prezzo. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, condividete questo video poi nei vari gruppi Facebook. Lo dico spesso a fine video perché vorrei che i miei video non venissero valutati come delle semplici recensioni ma che appunto potessero aprire un po' la mente in tanti altri appassionati, che magari una mia frase, una mia riflessione possa aiutare tanti poi a fare la propria idea, il proprio concetto di orologeria che poi appunto cambia per ognuno di noi. Quindi voglio che questo video possa arrivare a più persone possibili per questo perché voglio aprire poi un dibattito qui sotto nei commenti o anche nei gruppi Facebook dove appunto parliamo giornalmente di orologeria e sarebbe bello magari ogni tanto affrontare delle tematiche che non sempre vengono prese in considerazione perché appunto questo mondo oramai ruota solo attorno alla rivalutazione, la valutazione di un orologio, la speculazione, quanto possiamo guadagnarci, quanto conviene prenderla, quanto, insomma, tutte queste cose che si possono interessare all'inizio perché dici wow non sto spendendo i miei soldi nel nuovo iPhone ma mi sto comprando un orologio che acquisterà valore però poi effettivamente se questo mondo ti piace, ti appassiona è un aspetto veramente, veramente noioso. Come sempre vi ricordo che vi potete seguire anche su Facebook, su Instagram e mi trovate come PSQ Watches. Se questo video vi è piaciuto vi invito ancora a lasciare un mi piace, a commentare, a condividerlo e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!